Sarà sicuramente una sesta edizione del K-Now Curiosa. La trasportiamo in un mondo digitale che mai come oggi è attualissimo. Dopo quello che è successo, la parte digitale sicuramente rappresenta un paracadute. Nel caso in cui non ci sarà ancora la possibilità di muoverci liberamente, avremo del materiale che permette a tutta la categoria anche di continuare a formarsi e informarsi. La collezione K-Now 6 nasce fondamentalmente da una ricerca basata su tre grandi macro temi. Il primo è sicuramente la sostenibilità, che per quanto ultimamente se ne abbia parlato tantissimo e quindi è qualcosa che anche abbiamo già visto nelle lezioni precedenti. Rimane sicuramente un tema di ricerca e sulla quale noi dobbiamo tradurlo attraverso la salute dei capelli, tutto quello che è la materia con la quale noi lavoriamo. Il secondo concetto invece è basato sull'upcycling, che in un concetto moda vuol dire un riutilizzo di un qualcosa elevando nel valore. Quante volte noi parrucchieri andiamo a lavorare su un colore precedentemente eseguito questo colore diventi una base perfetta per ricrearne un altro e appunto valorizzarlo ancora di più, quindi portarlo in quello che è un mondo lusso. L'ultimo invece è qualcosa di più curioso, parlando di generazioni che abbiamo visto anche nelle collezioni precedenti, quindi la generazione X, Y, Z e Millennials, nasce questa nuova corrente chiamata Perennials e vedremo appunto attraverso l'educazione digitale come questi Perennials possano diventare dei contaminatori in quello che è tutto il panorama della moda. Quindi seguiteci che sarà sicuramente un'edizione interessante.